Prego, Onorevole Iannuzzi. Grazie, Presidente. Il parere negativo per questo emendamento è veramente, secondo me, grida vendita. No, non può parlare, Onorevole Iannuzzi. Lei è confirmatario di questo... Presidente, mi scusi, l'Onorevole Gallo ha intervenuto sul complesso degli emendamenti. Allora, Onorevole Iannuzzi, provi a seguirmi però, perché io lo posso ripetere anche tre volte. Lei ha parlato sul complesso degli emendamenti. Non può più parlare su tutti gli emendamenti di cui è firmatario o confirmatario. La differenza è qua. Questo è giusto, ma la regola vale per tutti, perché il collega Gallo è intervenuto... Ha ragione lei. Le chiedo scusa, Onorevole Iannuzzi, non mi sono accorto che anche l'Onorevole Gallo ha parlato sul complesso degli emendamenti. La prego di concludere rapidamente, ho sbagliato io. Le chiedo scusa. Semplicemente è stabilire che il titolare dei diritti è libero di affidare a chi vuole la gestione dei suoi diritti. Se non siete d'accordo su questo, non so. Grazie. Grazie a lei. Le chiedo scusa, Onorevole Iannuzzi, è successo perché io prima ero passato a un altro emendamento, quindi richiamando l'emendamento firmato a Nove Gallo mi sono distratto e non mi sono ricordato che aveva parlato sull'altro. Grazie. A questo punto siamo al 14.6.66. Quintarelli, parere contrario del relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 340, votanti di 128, astenuti 12, maggioranza 165, fuori di 116, contrari di 212, la Camera respinge. Siamo al 14.6.67. Artini, se nessuno chiede di intervenire, parere contrario del relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Tartaglione. Tartaglione. Ci siamo? Abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 342, votanti di 330, astenuti 12, maggioranza 166, fuori di 108, contrari di 222, la Camera respinge. Siamo al 14.6.100 della Commissione, col parere favorevole del relatore del Governo, se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Capua. Altri? L'onorevole Capua non riesce, Albanella. Bene. Altri che non riescono a votare? Albanella, ancora non riesce. Però l'onorevole Albanella, toglia la pallina, così facciamo prima. Grazie. La votazione è chiusa. Presenti 348, votanti 252, astenuti 96, maggioranza 127, fuori di 249, contrari 3, la Camera approva. Siamo? È ritirato il 14.6.4, è precluso dall'approvazione del 14.6.100, il 14.6. Quindi siamo al 14.6.6, rotondi. Se nessuno chiede di intervenire, parere contraria del relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Basso. Altri? Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 340, votanti 227, tutti 14, maggioranza 164, fuori di 27, contrari 299, la Camera respinge. 14.6.7, rotondi, se nessuno chiede di intervenire. Parere contraria del relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Tartaglione ha votato. Fanucci, di vita. Ok. Ok. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 340, votanti 237, maggioranza 167, fuori di 28, contrari 305, la Camera respinge. Ora siamo agli identici, 14.6.2, Battelli, 14.6.62, Gianluca Pini. Se nessuno chiede di intervenire, con il parere contrario del relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Chi non riesce a votare? Capua? Ok. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 335, votanti 325, astenuti 10, maggioranza 163, favore di 106, contrari 219, la Camera respinge. Siamo a 14.6.8, Rotondi. Se nessuno chiede di intervenire, parere contraria del relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Gigli. Bene. Altri? Fabri. Ok. Carrozza. Prego. Altri che non riescono a votare? Parisi. Dieni. Ok. Parisi è votata. Bene. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 347, votanti 342, astenuti 5, maggioranza 172, favore di 33, contrari 309, la Camera respinge. 14.6.9, Rotondi. Nessuno chiede di intervenire. Parere contraria del relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Ci siamo? Chi è dietro? Colletti. Prina. Scagliusi. Ci siamo? Abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 351, votanti 284, astenuti 67, maggioranza 143, favore di 30, contrari 254. La Camera respinge. 14.6. Spunto 10. Rotondi. Con il parere contrario del relatore del Governo, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Chi non riesce a votare? Tartaglione. Altri? Malpezzi. Ci siamo? Abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti dei 141, votanti 286, astenuti 63, maggioranza 144, favore di 29, contrari 257. La Camera respinge. 14.6. Spunto 12. Rotondi. Parere contrario del relatore del Governo e Quinta Commissione. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. No. 14. Chiedo scusa. Revoco la votazione. 14.6. Spunto 11. Rotondi. Parere contrario del relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Mancon. Ok. Altri? Io non vedo mani alzate. Sì. Brignone. Bene. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 337, votanti 276, astenuti 61, maggioranza 139, favore di 25, contrari 251. La Camera respinge. Ora siamo a 14.6. Chiedo scusa. Rotondi. Parere contrario del relatore del Governo e Quinta Commissione. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Carinelli, Marcon. Ok. Altri? Non mi pare. La votazione è chiusa. Presenti 345, votanti 336, astenuti 9, maggioranza 169, contrari 32, contrari 304. La Camera respinge. 14.6. Spunto 71. Segoni. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario del relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Fanucci. Albanella. Altri? Ci siamo? Chi è che dice no? La votazione è chiusa. Presenti 343, votanti 332, astenuti 11, maggioranza 167, fori 108, contrari 224. La Camera respinge. Siamo alla votazione dell'articolo 14.6. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Stiamo votando l'articolo 14.6. Chi non riesce a votare? Busto. Ha votato. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 344, votanti 256, astenuti 88, maggioranza 129, fori 2,48, contrari 8. La Camera approva. Votiamo l'aggiuntivo 14.6. C'è il 500 del Governo. C'è il parere favorevole del relatore del Governo. Se nessuno chiede di intervenire, lo pongo ai voti. La votazione è aperta. Colletti, colletti, sgambato.